Allora, l'altro tema interessante di cui il viso pubblico si è occupato, come anche delle pubblicazioni significative, è quello del gioco d'azzardo. Sembrerebbe che la Regione Veneto sia il quarto posto per la cosiddetta pandemia da gioco d'azzardo, di cui c'è ben poco da ridere, perché in realtà sappiamo bene, abbiamo parlato più volte con medici, professionisti, i SERD, che è una dipendenza, una gravissima dipendenza, che non si è attenuata, se non a livello fisico, di spostamento fisico, neanche durante il lockdown, anzi è aumentata, con il gioco domestico e sono fiumi, veri e propri fiumi di denaro che girano, si rimescolano in qualche modo, perché lì voi, insieme alle forze dell'ordine avete riscontrato filoni anomali. Sì, anche qui è uno dei dati conclamati di come le mafie tragano dal gioco d'azzardo i maggiori benefici dei loro affari, è proprio uno dei contesti da cui le mafie tragano i maggiori benefici proprio per i loro affari. Anche qui, come diceva lei correttamente, avviso pubblico è intervenuto con alcune pubblicazioni e anche con alcuni eventi formativi davvero molto interessanti, mi ricordo anche io quando ho partecipato ad alcuni di essi qualche anno fa, sono rimasto davvero stupito da quanto in profondità fosse la conoscenza di alcune tematiche e di come emergessero alcuni elementi a cui fare attenzione davvero interessanti. Questo anche per dire di come rispetto alla facciata di legalità che c'è dietro a molte di queste attività, poi il riciclo di denaro o le modalità con cui arrivare a fare affari da parte dei mafiosi siano davvero tante, ripeto, pur nonostante una parvenza spesso di legalità. Quindi anche su questo, come si diceva, probabilmente sarebbe da fare davvero una forte scelta di campo a livello politico, perché anche qui i dati degli effetti negativi della ludopatia sono evidenti sia per il risvolto sociale che hanno sulle persone che sulle famiglie, sia poi per i costi che servono anche per seguire tutte queste persone. Quindi io penso che ancora prima però di una valutazione meramente economica di costi e benefici, una chiara stella polare a livello sociale dovrebbe esserci per cercare di limitare quanto più possibile un settore che sicuramente all'inizio può avere alcuni benefici, può portare alcuni benefici alle casse dello Stato, ma che poi a valle, non a monte ma a valle, ha invece tutta una serie di effetti negativi che pesano molto di più, tanto a livello sociale quanto poi anche a livello economico. In che modo è stata riscontrata una certa connessione con le mafie? Proprio sul riciclaggio del denaro e sulla capacità di alterare i circuiti. Adesso dovremmo entrare un po' nel tecnico, io non sono la persona più preparata, ma tutti i circuiti che gestiscono le transazioni, il passaggio di informazioni, delle macchinette, delle slot, anche qui ci sono delle informazioni molto tecniche, molto interessanti da conoscere, che permettono proprio, nonostante il percorso legale con cui è impostata l'attività, di deviare un flusso importante del denaro che viene giocato su canali di illegalità. E quindi sappiamo di come il riciclaggio sia uno proprio dei fenomeni maggiormente collegati alle attività mafiose e serve proprio quell'attività che cerca di rimettere in maniera nel mercato pulito e trasparente quelle risorse che arrivano invece da affari illegali, quindi dal mercato fra virgolette nero. Certo, anche qui tra l'altro è un fenomeno che coinvolge anche i giovani purtroppo, tanti tanti giovani più di quel che un po' è una forma di dipendenza, non è una forma di dipendenza, che coinvolge tante persone. Anche qui il ruolo di formazione, di stimolo nelle scuole, può avere un senso, può servire o ci vuole bisogno di pensare altre strade, altre strategie? No, è sempre fondamentale, penso che abbia una importante rilevanza anche quello. Chiaro che non è l'unica attività attraverso cui attivarsi, penso che l'esempio degli adulti sia al di là di ogni parola poi uno dei fattori determinanti. E però anche la parte formativa di conoscenza porta in molti ragazzi anche la consapevolezza ed è un semino importante che poi può diventare col passare degli anni davvero può portare a quel frutto positivo all'interno della vita di ciascuno di questi ragazzi che poi diventano adulti e fanno più consapevolmente alcune scelte. Abbiamo visto come in questi anni la dipendenza non solo nei confronti del gioco d'azzardo ma poi sulle droghe, sugli alcol davvero abbiano portato a dati rilevantissimi. C'erano alcune statistiche pubblicate proprio nelle ultime settimane come i giovani post-covid ma poi un po' per tutta la situazione di difficoltà che si sta vivendo nel contesto presente. Pensiamo all'incertezza del futuro dovuta alla crisi climatica, a tante questioni davvero insomma creano probabilmente un contesto, un po' di paura e di incertezza che mette in difficoltà magari quei soggetti che sono un po' più in difficoltà nel trovare una linea di vita stabile all'interno del proprio percorso di vita. Quindi la parte formativa e di accompagnamento e tutti i servizi che devono esserci a supporto non possono che svolgere un ruolo davvero fondamentale, non l'unico ma fondamentale. Quindi questo è molto importante, parlarne, far capire che poi si incomincia per gioco, per scherzo, per noia e poi invece si entra in un vortice veramente senza via d'uscita. Questo dovrebbe essere importantissimo e trovare le modalità con cui colpire anche i più giovani se non si riesce a farlo con le persone che ormai hanno una certa età. E poi si fomenta un mercato dell'illegale. L'altra ultima questione, anche perché il tempo letteralmente vola, però merita qualche minuto ogni tempo, è quella relativa all'evasione fiscale. Anche qui i sindaci sono stati chiamati più volte in causa anche dai sindacati stessi perché il sindacato richiede una partecipazione attiva per ottenere anche segnalazioni dei potenziali evasori in modo tale che il comune abbia più soldi da dedicare poi alle attività sociali, quelle che possono essere utili alle persone più fragili. Ma possono veramente fare qualcosa i sindaci in questo contrasto all'illegalità, all'evasione oppure no? Parliamo poi in certi casi di evasori totali. Certo. Allora, sì, ho presente anch'io quella che è stata la reprimenda un po' dei sindacati quando hanno visto delle statistiche di fatto allarmanti di quelli che erano i numeri di segnalazioni che arrivavano dai municipi. In particolare la provincia di Treviso era una, proprio quella dove c'è anche il mio comune, era una di quelle più carenti su questo fronte. Guardo ovviamente al mio comune, alla mia attività, senza giudicare quelle degli altri, per dire di come anche qui, e non è assolutamente per buttare la palla in tribuna, ci mancherebbe chiamare solo qualcun altro a portare soluzioni, perché penso sempre che bisogna prima guardare se stessi e che cosa si può fare, però, sì, pur avendo dei funzionari onestissimi, io so quanto sono, per esempio, molto berati su tantissimi fronti e la parte dei controlli a volte non è quella su cui primariamente si è chiamati, non chiamati, ma si riesce poi a concentrarsi, viste le enormi incombenze che ci sono sempre più. E su questo, torno su una questione che sollevavo prima e sottolineavo prima, di quella come il numero dei dipendenti all'interno dell'organico dei nostri municipi non sia in questo momento adeguato per soddisfare anche a tutti questi bisogni. Certo, dei passi ulteriori, e possiamo sicuramente migliorare, perché i livelli fatti emergere dalle statistiche erano davvero al di sotto di qualsiasi margine di sufficienza, quindi sicuramente possiamo migliorare i primis, ma poi bisogna che ci sia un'azione di investimento a 360 gradi in maniera molto più ampia. Qui però, se posso, fare un appunto. Io vedo di come in questi anni, in questi mesi, si è sempre parlato moltissimo, si sono state sprecate tantissime energie su mini condoni, su evasioni, su contante sì, su contante no, 3.000, 5.000, qual è la soglia. Anche qui uno studio è stato pubblicato pochi mesi fa, faceva vedere come sul 10 euro che vengono pagati in contanti, ovviamente è una cifra simbolica per dare poi le proporzioni, 10 euro pagati in contanti 3,6, e quindi se noi li rapportiamo poi ai miliardi che investiamo nelle finanziarie, di cui abbiamo bisogno per dare risposte ai servizi per le nostre comunità e quant'altro, circa oltre il 30% del denaro che viene utilizzato in contante finisce nel circuito nero. Allora, io dico, se ci sono degli elementi così chiari, che ci dicono che tramite quei canali vengono sottratti alle risorse pubbliche, quindi risposte ai cittadini, soprattutto a quelli bisognosi, e anche a chi fa impresa, perché se tutti pagano le tasse, le tasse li pagano tutti, questo era un vecchio adagio, insomma, che veniva riproposto da qualche campagna pubblicitaria costruttiva, io penso che davvero non capisco perché ci si concentri a volte su, si sprechino molte energie su questioni molto piccole, quando invece probabilmente delle soluzioni già poi sperimentate in altri paesi che hanno dato enormi benefici sulla tracciabilità dei pagamenti, sull'abbassamento il più possibile del limite del contante, qualora la sua eliminazione, possono dare davvero dei benefici enormi, anche in termini sostanziali numerici, alle casse dello Stato, in positivo per tutti. Quindi davvero a volte penso che se ci fosse la reale volontà di combattere questi fenomeni, qualche passo in più lo potremmo fare in maniera molto più semplice di come le affrontiamo a volte. Assolutamente, proprio per completare questo che hai detto, mancano le persone nelle pubbliche amministrazioni, nei comuni, nel fattispecie poi comuni più piccoli, anche se si accorpano, hanno delle difficoltà, perché mancano oggettivamente le persone, c'è tipo infatti un concorso e non c'è partecipazione, come avviene in altri ambiti, sappiamo benissimo, oppure manca anche proprio l'organizzazione di uffici per avere più personale da dedicare a certe cose? No, diciamo che allora la realtà per cui i concorsi vanno deserti o con esiti non fausti è abbastanza recente e è sicuramente uno dei fattori che contribuisce insomma a non arricchire gli organici degli enti. Quello che però ha reso strutturale e più deficitaria questa situazione è il disinvestimento che è stato fatto in questi anni, con il contenimento della spesa dei comuni, soprattutto a livello locale, quando invece i tagli a cui hanno partecipato le amministrazioni di rango gerarchico maggiore sono stati in percentuale minori. Quindi su questo la necessità di dover sempre guardare ai tetti di spesa, ai limiti, senza poter andare ad arricchire il proprio organico per soddisfare i tanti bisogni che ci sono oggi, soprattutto a fronte del carico burocratico che è stato calato in maniera sempre più pesante proprio sulle amministrazioni, questo penso che sia l'elemento che più ha messo in difficoltà gli enti. Non siamo qui a piangere, a dire che senza altre persone non si fa niente e tutto, però come dicevo prima, se vogliamo una pubblica amministrazione che sia all'altezza della velocità che è richiesta dall'economia e dallo svolgimento della vita sociale oggi, io penso che un investimento serio sulla pubblica amministrazione debba essere preso di petto. Grazie Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, coordinatore regionale di avviso pubblico, grazie di essere stato qui con noi, di averci cato del tempo, speriamo che si possa essere utile perché sono state dette tantissime cose molto importanti, insomma goccia dopo goccia, insistendo, una cultura della legalità, bisogna che si radichi un po' ovunque e che sia ben presente la consapevolezza che altrimenti i rischi sono veramente alti e anche di impoverire in generale tutto un territorio. Buon lavoro a voi naturalmente, grazie e a voi cari telespettatori buon proseguimento, ci vediamo domani.